Abbiamo qui con noi Vincenzo Delfino, tallonatore e punto di forza del Petrarca da diverse stagioni, quante sono? 5-6 ormai? 5, sì, 5 stagioni, è bellissimo far parte di questa squadra, sono molto contento per i ragazzi, sono molto contento per Simone che sta facendo una prestazione di altissimo livello come ci aveva abituato sempre bene, le fiamme sono molto solidi in difesa, però rispettando il piano di gioco comunque quello che Andrea ci aveva chiesto sì, diciamo che a parte le due fiammate appunto, quelle create da Ragusi, c'è stato poco spazio per il bel gioco le squadre ci hanno anche provato, però questo è un match in cui chi sbaglia paga sì, sì, la difesa delle fiamme è molto solida, stanno lavorando benissimo però abbiamo la fortuna di avere gente come Simo in squadra che esce con queste invenzioni e comunque anche gli altri tuoi compagni, soprattutto in occasione della prima meta abbiamo visto una bella meta sull'asse di sostegno, veramente portata a buon fine senti, tu sei un giocatore di prima linea, hai tanta esperienza davanti che ne pensi dell'arbitraggio sugli ingaggi? All'inizio c'era forse qualcosa che non ti è tornato ti trovi d'accordo con Liperini, finora tanti falli contro il Petrarca? non è mai facilissimo arbitrare la mischia sinceramente, sicuramente fanno sempre il massimo per fare le gare, per arbitrare al massimo ho visto forse effettivamente un po' fallosi noi, però immagino che ora sistemeranno qualcosa c'è anche Jakob dall'altra parte che un po' vi conosce, sicuramente sa come anche stuzzicare probabilmente i suoi ex compagni senti, dovessi dare adesso un suggerimento negli spogliatoi ai tuoi compagni su cosa punteresti? continuare così, metterli sotto pressione con la nostra difesa e continuare ad attaccare come stiamo facendo stiamo giocando molto bene, anche loro lo stanno facendo, speriamo di riuscire a contenerli ancora senti, tu adesso sei attualmente ai box, tra quanto ti rivedremo in campo ovviamente so che non dipende solo da te, siete in tanti a sgomitare quest'anno il Petrarca va bene, anche la Rosa è in salute che obiettivo ti poni da qui ai prossimi tre mesi? c'è una bella competizione, anche perché c'è gente di altissimo livello lo dimostra Giovanni Marchetto che sta giocando Santa Maria che gioca è bello avere queste competizioni in alza comunque il livello spero di rientrare la prossima settimana vediamo con lo staff medico cosa riusciamo a... noi te lo auguriamo tanto senti un'ultima cosa l'altra volta era venuto qua Simone Ragusi non so e io non credo tanto nella scaramanzia però magari sai avergli portato forse un po' di fortuna oggi veramente sta dimostrando grandi cose noi speriamo ovviamente che anche tu torni e lui ha detto una cosa anche molto bella insomma questo gruppo è cresciuto lui non è di Padova e di Milano ma si trova molto bene qui tu sei di Catania ma ti trovi molto bene qui ovviamente ci tenete tutti vedi la mentalità giusta per arrivare fino in fondo sì questa società da diverso tempo che ormai sono qui questa società è veramente un punto fermo per tutta la gente che viene ti fa sentire veramente parte di qualcosa quest'anno ancora di più voi per il lavoro di Andrea voi per gli obiettivi che ci siamo prefissati noi noi ovviamente non lo vogliamo dire però l'obiettivo nostro è di arrivare fino in fondo